Per il secondo anno consecutivo, Pievetorina ospita la finale regionale di Miss Marche, in programma per giovedì sera 23 agosto con inizio alle ore 21.30. Cambia però lo scenario. La passerella sarà infatti allestita in piazza Santa Maria Assunta, nel cuore della zona rossa del paese distrutto dal sisma, che sarà riaperta proprio per questo evento. Decisione presa in accordo tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Gentilucci e l'agenzia PAI di Mimmo del Moro, che organizza la manifestazione. Abbiamo deciso di riaccendere i riflettori all'interno del centro storico e quindi riportiamo la Miss Marche sulle macerie, dove non è rimasto di fatto nulla, dove nel 2016 avevamo fatto l'ultima edizione riuscitissima, adesso nella stessa piazza Santa Maria Assunta, riaperta per quella sera proprio all'uopo di dare quelle che sono le condizioni, e le caratteristiche del nostro territorio, al fine di sensibilizzare anche la politica affinché ci sia un aiuto, quello sperato, nei confronti dei terremotati. Ecco, utilizzare il bello sopra quello che dovrebbe diventare il nostro momento di rinascita. Ecco, e cosa significa tornare ancora una volta a organizzare un grande evento come questo, in situazione ancora non diciamo di emergenza, perché Pietro Rini è già stato abbastanza avanti, però c'è sempre da fare, come ha detto poco fa. Io considero l'emergenza ancora in atto, fin tanto che i miei cittadini non ritorneranno a una condizione di stabilità, dove per stabilità si intende rientrare nelle proprie abitazioni, quelle che hanno lasciato la sera del 26 ottobre del 2016. Riportare un evento all'interno del centro storico significa proiettare una politica dove non vogliamo abbandonare nulla, dove vogliamo ritornare alle nostre radici, vicino a dove siamo cresciuti. Questo per ridare senso di fiducia alla nostra popolazione, questo per cercare di fare tutti insieme squadra, al fine di riuscire in questo obiettivo molto difficile che è la ricostruzione. La finale regionale è l'evento, diciamo, clou, ma ci sono anche altre iniziative per l'estate di Vietorina. La finale regionale rappresenta un fattore clou, anche mediatico. L'estate di Vietorina si è corroborata di tanti eventi, anche fatti ad opera degli imprenditori locali. Noi come amministrazione pubblica abbiamo organizzato un evento molto importante, Vietorina a cuore, un rimpatrio, una sorta di coesione tra tutti i nostri cittadini, residenti e non, quelli che in periodi fino all'estate del 2016, prima del sisma, abitavano Pievetorina, circa 9.000 persone. Ecco, questi sono i numeri del nostro patrimonio immobiliare e la capacità di riuscire ad attrarre turismo di ritorno. Vogliamo pian piano ritornare a questi numeri. Ecco, sulla scorta della volontà di far sentire tutti vicini in questi drammatici eventi, a due anni dal sisma, proprio per fargli mantenere le radici in una ricostruzione che stenta a decollare. Abbiamo deciso di organizzare questo evento e poi a causa maltempo l'abbiamo trasferito nella nuova scuola di Pievetorina. La stessa sera c'era il Teatro Sperimentale A insieme alla Macina che hanno dato vita a uno spettacolo, direi, unico. Sessore Pierone, l'importanza della finale di Miss Italia in un centro toccato fortemente al sisma come Pievetorina? Ma io credo che sia la giusta cosa che l'organizzazione per prima, l'amministrazione comunale di Pievetorina e la Regione Marche abbiano fatto e facciano per mantenere alta l'attenzione su queste bellissime realtà, su questi bellissimi paesaggi. Dopo il percorso fatto con Risorgi Marche che chiaramente ha dato una grande visibilità a questi territori, aver cantierato questa giornata, questa serata bellissima di Miss Italia che viene fatta a Pievetorina è un messaggio forte. Non più la volontà di rincorrere sempre quel drammatico sisma del 2016 ma di superarlo con questi grandi eventi, questi grandi appuntamenti. Qualche giorno fa abbiamo avuto un altro grande appuntamento ad Amandola, lo stesso dedicato a Miss Cinema Marche che parteciperà alle pre-finali di Jesolo, sempre dedicato a Miss Italia. Credo che questi due appuntamenti, due serate, siano la dimostrazione che comunque questi territori, grazie alle amministrazioni, in questo caso di Pievetorina e di Amandola, vogliono essere sempre sensibili e attenti e soprattutto vogliono dare un grande messaggio, il messaggio di ripartenza e quindi di avere la possibilità di far conoscere sempre più questi territori e sicuramente questi due grandi eventi sono un messaggio forte che verrà ripreso a livello nazionale. Madrina d'eccezione, la trentina Alice Rachele Arlanc, Miss Italia 2017 che incoronerà la nuova Miss Marche. Alice, che effetto fa essere a Pievetorina con la regina ancora di Miss Italia in vista della finale del Miss Marche? Sicuramente è una grande emozione, soprattutto perché ho ancora una volta l'opportunità di vedere una zona terremotata e quindi di confrontarmi anche con quella che è la realtà del nostro paese. Spero che con questa finale si dia una spinta in più al proseguire sempre meglio per ricostruire e ritornare a una vita, tra virgolette, normale però vedo che comunque la situazione qua è molto tranquilla, molto anche cordiale e familiare nonostante comunque non ci sia dei negozi veri e propri e quindi devo dire che è bello vedere come le persone riescono comunque a cavarsela nonostante le difficoltà. Ecco, tu che l'hai vissuta anche da dietro le quinte, cosa ti ha dato questo successo a livello personale? Sono sicuramente cambiata molto perché io ho partecipato a Miss Italia proprio per riuscire a superare dei miei limiti, dei miei difetti, come può essere parlare in pubblico, come può essere anche sfilare, confrontarmi con una giuria. Quindi da questo punto di vista sono veramente cambiata tanto, sono diventata molto più forte, molto più decisa, indipendente e poi comunque a livello lavorativo ovviamente mi sono per la prima volta approcciata al mondo del lavoro e poi con delle esperienze meravigliose tipo Don Matteo che insomma è stata una grande soddisfazione, inaspettata, ma una grandissima soddisfazione che altrimenti non avrei mai avuto modo di fare. Quindi che suggerimento dai alle prossime finaliste? Sicuramente di non mollare perché comunque Miss Italia può essere all'inizio un percorso un po' faticoso perché soprattutto per esempio a Jesolo, soprattutto durante le selezioni a livello regionale, magari c'è la sconfitta in una selezione, quindi una persona si può demotivare, però in realtà quello che è bello del concorso è che qualsiasi selezione, qualsiasi punto d'arrivo ti dà comunque tante conoscenze in più, tante energie in più e ti aiuta a migliorarti, a cambiare la tua personalità in meglio, quindi a diventare una persona molto più sicura e più forte e secondo me a prescindere dal risultato della corona o meno è un'esperienza che tutte le ragazze dovrebbero fare per sentirsi più a proprio agio con se stesse e anche più forti appunto. Quali sono le ambizioni di Alice? Allora io adesso a settembre quando cederò la corona riprenderò un po' in mano la mia vita di prima, di prima di Miss Italia quindi mi concentrerò principalmente sugli studi poi mi piacerebbe fare un corso di edizione e riuscire magari a fare qualche provino per poi condurre in un futuro e una trasmissione televisiva mi piacerebbe in ambito sportivo però qualsiasi esperienza riuscissi a fare comunque per me sarebbe una grande occasione. Alla serata, presentata da Marco Moscatelli e Monica Riva si esibiranno fra i vari ospiti anche il cantante Francesco Capodacqua e il comico Marco Passiglia.